Amici di Android Blog, siamo allo stand Sony del Mobile World Congress 2015 in compagnia del nuovo Sony Xperia M4 Aqua Vi parlo subito di caratteristiche tecniche perché qua abbiamo una connettività LTE categoria 4 Oltre ovviamente al classico comparto di connettività di ogni smartphone Un display da 5 pollici con risoluzione HD 720p IPS ovviamente Davanti una camera da 5 megapixel, qua con un angolo di visione di 88 gradi Capsula auricolare, LED qua integrato sotto la scocca e sensori di luminosità e prossimità Qua sotto abbiamo i tasti su schermo e la griglia per... No, ancora non abbiamo capito bene se è il secondo speaker o semplicemente una griglia simmetrica per il microfono principale Leggete pure i nostri articoli per ulteriori informazioni Continuiamo la carrellata hard, qui il cassettino probabilmente per la sim Tasto di accenso e spegnimento blocco o sblocco, bilanciere del volume E, ottima notizia, tasto dedicato per la fotocamera Questo non è metallo, al tatto si sente benissimo che è plastica Qua a sinistra l'espansione tramite micro SD che va ad espandere gli 8 GB di memoria integrata E, posteriormente, la camera principale da 13 megapixel con sensore Exmor RS e il flash LED Simbolo NFC che sta a testimoniare questa funzione e qui in alto la presa micro USB Dimensioni 145.5 x 72.6 x 7.3 mm di spessore molto sottile e leggero 140 grammi Processore MSM 8939 octa-core 4 core da 1 GHz più 4 core da 1,5 GHz Scusate, più 4 core da 1 GHz E 2 GB di RAM Come già detto, espansione di memoria E certificazione IP65, quindi waterproof Dentro integrato, una batteria da 2400 mAh Questa è l'interfaccia ormai classica di Sony Abbiamo visto il doppio slide Questo potrebbe stare ad indicare che abbiamo l'Hollipop a bordo Andiamo a controllare se troviamo la versione E, infatti, è la 5.0 Lollipop Come vedete, resta in grafico anche per i setting di Sony Per quanto riguarda invece il resto del drawer e dell'interfaccia Più o meno è sempre la stessa Anzi, il dial è cambiato Mi sono auto-smentito da solo Per questa preview di Sony Xperia M4 Acqua e tutto dal Mobile World Congress 2015 Un saluto da Alessio per Androidblog.it